Si fa in salita la corsa del Pescara per l'acquisto di un difensore. L'argentino Spoglio è infatti virtualmente un giocatore del Chievo Verona. La società Clivenzi è riuscita a spuntarla sui biancazzurri anche grazie all'intervento del tecnico Rolando Maran che aveva avuto le sue dipendenze Spogli ai tempi del Catania e così si torna a puntare sul 36enne Domizi dell'Udinese. Con l'esperto difensore oggi in Friuli c'è però distanza a livello economico senza contare che la società dei Pozzo e il giocatore sono ancora lontani da un eventuale accordo per una buon'uscita. Tutte questioni non di poco conto e che rendono non facilissima la conclusione della trattativa. Il Pescara in verità aveva anche pensato a coda della Sampdoria ma il giocatore gradirebbe restare nella massima serie con il Frosinone pronto a chiudere il contratto nel giro delle prossime ore. Al Pescara piace anche l'islandese Magnusson del Cesena ma di proprietà della Juventus. Il giocatore nord europeo sta avendo poco spazio in Romagna ma la vecchia signora preferirebbe trovargli una destinazione in Serie A. Sulle fronte cessioni Marco Sansovini sembra allontanarsi giorno dopo giorno dall'Abruzzo. Il giocatore vorrebbe più spazio e per questo con il suo procuratore starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi reggiana anche perché la sua famiglia risiede nel Mantovano e dunque non lontano dal capoluogo emiliano. Cocco sbloccatosi nella gara con il Livorno interessa l'Avellino ed anche il Vicenza. Vitturini piace all'Aquila mentre l'attaccante forte è entrato nell'orbita della Provercelli. Valoti è invece destinato a tornare all'Ellas Verona.